Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Money Never Sleep, il denaro non dorme mai. Un appuntamento settimanale durante il quale molto semplicemente analizziamo dal punto di vista economico-finanziario i principali accadimenti nel mondo. Do il benvenuto ad Enrico Lanati, mio collega che assieme a me anche questa sera commenterà quello che è la notizia che abbiamo deciso di commentare. Benvenuto Enrico. Buonasera a tutti. E allora andiamo subito a parlare di quella che è a nostro avviso la notizia un po' più importante e succulenta nel mondo dell'economia e della finanza mondiale. Poche ore fa è stato presentato il nuovo amministratore delegato, il nuovo SEO del gruppo Alphabet che è Sundar Pichai. Sundar Pichai che è passato dall'essere il SEO, quindi l'amministratore delegato di Google, ad Alphabet che appunto è la capogruppo sostanzialmente. Una società che nel 2015 è stata creata per controllare tutte quelle che sono le società controllate da Google, quindi una società holding alla quale appunto fanno capo diverse società che assieme a Google si occupano di diversi progetti. Chiaramente all'interno di Alphabet la società più importante e sicuramente più profittevole è e rimarrà Google probabilmente per un bel po' di tempo, ma appunto non è l'unica società operativa di questo gruppo dato che le società sono diverse. Prima di andare a vedere nel dettaglio e fare qualche commento di quelle che sono appunto queste società facente parte di Alphabet, vediamo in breve chi è Sundar Pichai. Perché già come potete immaginare dal nome il personaggio in questione è indiano e ha una storia davvero incredibile perché intanto ha 47 anni ed è nato in India. Quindi ha una storia molto particolare perché arriva tutto sommato da una famiglia povera dato che si va a vedere un po' quella che è la sua storia, addirittura viene scritto da Bloomberg che fino insomma quando era bambino dormiva per terra nella casa di famiglia perché insomma i genitori erano molto molto poveri. Dopodiché si è appunto laureato in ingegneria metallurgica sempre in India e poi nel 2004 se non sbaglio, adesso mi sono perso un attimo la pagina dove appunto ho tutti questi dati, eccolo qua. Sì nel 2004 appunto è entrato a far parte di Google nella cui azienda si è fatto subito notare dato che tra le varie cose a cui ha partecipato, tra lo sviluppo delle varie cose a cui ha partecipato diciamo che è uno dei principali inventori diciamo del sistema operativo Android e di Google Chrome che probabilmente è il browser che anche in questo momento state utilizzando per seguire questo questo webinar quindi insomma un personaggio davvero incredibile che appunto incarna proprio in tutto e per tutto il sogno americano dato che appunto insomma arrivare a questo livello nonostante la propria famiglia non sia una delle famiglie più ricche diciamo del del mondo è davvero qualcosa di incredibile deve essere davvero in gamba questo personaggio o no Enrico cosa ne pensi? Sì assolutamente tra l'altro c'è già il ruolo che ricopriva prima che era quello di amministratore delegato di Google era già un ruolo importante adesso veramente è a capo proprio di tutte le attività quindi complimenti a lui e sicuramente è sicuramente una storia interessante ovviamente qui siamo di fronte a una persona che ha dimostrato negli anni il suo valore perché comunque non dimentichiamo che non è che è diventato non è stato messo a capo da oggi ma Google è un'azienda che ha relativamente una vita abbastanza recente nel senso che esisterà da una ventina d'anni lui è a Google dal 2005 quindi comunque insomma o dal 2004 quindi comunque diciamo che è all'interno dell'azienda veramente da tanto tanto tempo quindi l'ha vista crescere e probabilmente la conosce meglio di tanti altri meglio di tanti altri manager che avrebbero potuto prendere da fuori quindi complimenti anche per la scelta guarda nel mentre che parlavi sono andato a cercare qualche dato e Google è stata fondata nel 1998 nel settembre 1998 quindi è una società comunque abbastanza nuova perché davvero stiamo parlando di una società che ha 21 anni quindi è davvero incredibile pensare alla strada che in questi anni è stata fatta da questa società che chiaramente adesso poi lo vedremo nel dettaglio ma è molto più di Google come la conosciamo oggi come conosciamo il motore di ricerca diciamo è davvero incredibile la strada che Larry Page e Sergey Brin che sono i fondatori partendo da un garage in Silicon Valley hanno percorso davvero incredibile questa cosa e giustamente come dici tu appunto non è assolutamente un ruolo politico quello che copre questa questa persona questo Sundar Pichai che è appunto evidentemente ha una marcia in più o qualche marcia in più rispetto rispetto ai suoi colleghi non deve essere facile se posso fare un'altra considerazione è questa se un'azienda come Google che oggi è una delle aziende che ha tra la più larga capitalizzazione al mondo perché diciamo di questa grandezza alla fine ci sono veramente poche aziende nel globo ricordiamo Amazon ricordiamo Apple ma ce ne sono poche altre ecco e tutto questo è stato fatto in vent'anni vuol dire che dobbiamo smetterla di lamentarci nel senso che tante persone parlano di crisi tante persone parlano di poche opportunità che il mondo non è più quello di una volta che si stava meglio quando si stava peggio la verità è che opportunità di questo tipo sia come investitori ma anche la possibilità di creare innovare creare cose nuove oggi è molto più facile secondo me rispetto a 20 30 anni fa e quindi secondo me è uno che ha voglia si vuole mettere in gioco e ha diciamo le potenzialità appunto per per eccellere oggi secondo me ha più opportunità rispetto a quante non ne poteva avere 20 o 30 anni fa ecco Enrico io nella giornata di oggi chiaramente spinto dall'interesse che mi ha suscitato questa questa notizia sono andato a vedere il grafico del titolo in borsa di Google che poi appunto nel tempo è diventato Alphabet nel 2015 se non sbaglio Alphabet è stato è stata creata appunto per mantenere al suo interno tutti questi brand che poi adesso vedremo ma il titolo Alphabet nel 2005 ho il grafico davanti a me in questo momento valeva in borsa 50 dollari per azione oggi in questo preciso istante lo stesso titolo vale 1317 dollari un incremento percentuale incredibile che non so nemmeno non so nemmeno calcolare probabilmente no ecco riesco a calcolarlo perché ho questo tool bellissimo stiamo parlando del 2588 per cento rispetto al prezzo appunto del del 2005 un incremento pazzesco che ha portato a parte i fondatori ma anche tutte le persone che avevano delle quote davvero a incrementare la loro ricchezza in maniera in maniera notevole e la vera domanda che ti chiedo di rispondere magari dopo che abbiamo visto anche tutte le varie società di cui che fanno parte di Alphabet è è ancora oggi un'azienda da comprare Google? quindi prima di avere la tua risposta direi di andare a fare un salto nelle varie aziende controllate da Google e capire un attimino di che cosa stiamo parlando perché Google chiaramente la conosciamo sostanzialmente per i prodotti principali stiamo parlando del motore di ricerca al quale poi viene accostato tutto il business della pubblicità e che è ancora oggi la principale fonte di fatturato di Google e sostanzialmente un business molto interessante perché nel momento in cui un utilizzatore del motore di ricerca va su Google oltre a trovare i risultati cosiddetti organici ovvero quelli che dovrebbero essere più azzeccati in base ai contenuti della pagina, in base a vari parametri che sono presenti all'interno dell'algoritmo di Google vengono anche presentati appunto dei risultati a pagamento e questa è stata la vera rivoluzione di Google la vera rivoluzione appunto del motore di ricerca come lo conosciamo poi molto importante per Google è il sistema operativo Android che è appunto come dicevamo prima è stato uno dei principali inventori e pensatori di questo sistema è proprio il nuovo amministratore delegato ma alla fine tutto poi riporta sempre alla pubblicità perché utilizzare il sistema operativo, utilizzare i vari servizi fanno in modo che Google ci conosca sempre di più e sempre meglio e di fatto ci possa poi proporre quello di cui abbiamo bisogno nel momento in cui ne abbiamo bisogno quindi vediamo un pochettino, facciamo una carrellata di quelle che sono le società all'interno di Alphabet la prima, prego 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 no Luca su questo dato la cosa secondo me importantissima è so che tu hai fatto un webinar appunto su i megatrend il vero tema è che tra le gmail e le ricerche Google organizza, gestisce e incorpora al suo interno una quantità infinita di dati e questi dati poi riescono a essere molto utili per chi poi deve andare a targettizzare delle campagne quindi il vero valore intrinseco è proprio questo se noi oggi abbiamo delle gmail gratis, se le ricerche su Google sono gratuite il motivo è che di fatto la merce sono gli utilizzatori e quindi poi tutti questi dati vengono poi venduti per il tramite della pubblicità e quindi in questo modo Google ha la possibilità di ottenere delle marginalità molto molto importanti ma vediamo quali sono le aziende che fanno parte del gruppo poi ti rispondo sul fatto se si ha ancora o meno l'opportunità di comprare esatto, tu pensaci perché è un qualcosa di importante sai che l'obiettivo di questi webinar poi è concretizzare sostanzialmente in maniera fattiva qualcosa che poi effettivamente possa essere utilizzabile per gli investimenti allora la prima società facente parte del gruppo Alphabet è Waymo Waymo è una società che appunto è nata nel 2009 ed è una società sostanzialmente che si occupa di auto che si guidano da sole quindi un argomento molto caro al buon Elon Musk in maniera molto più soft e in maniera molto meno rumorosa anche Google è attiva in questo settore che probabilmente sarà un settore che ridisegnerà in maniera sostanziale le abitudini dell'umanità un'altra volta perché oggi tutti quanti siamo abituati a spostarci dal punto A al punto B o con i mezzi pubblici o con l'auto di proprietà molto probabilmente quando arriveranno le auto che si guidano da sole beh per l'ennesima volta negli ultimi dieci anni le abitudini nostre verranno cambiate ulteriormente è una società appunto separata da Google ma sempre del gruppo e la cosa interessante è che i servizi di questa società che sostanzialmente è una società di taxi di robotaxi già sono attivi a Phoenix in Arizona quindi se da un lato abbiamo il buon Elon Musk che fa un casino della madonna con i suoi tweet scombussola sempre le sedute di borsa del titolo Tesla dall'altra parte abbiamo invece Google che attraverso questa società Waymo in maniera molto più discreta in verità ha già un servizio attivo e addirittura i dati della società dicono che oltre mille utilizzatori hanno utilizzato solamente nell'ultimo anno questo servizio e appunto sembra funzionare chiaramente al momento è limitato al servizio di taxi in una città sola dell'Arizona che è Phoenix quindi molto interessante cosa ne pensi Enrico di questa società? io credo sinceramente che questo potrebbe essere davvero una rivoluzione nel mondo anche perché oggi come oggi tra le più grosse società del mondo abbiamo anche delle società che producono auto come cambierà e che impatto avrà l'auto che si guida da sola nel mondo secondo me arriverà e su questo non ci sono grossi dubbi sarà elettrica, sarà super tecnologica non inquinerà e sarà la cosa più bella del mondo questo d'accordo però la verità è che queste cose possono essere sviluppate da aziende solo come Google perché probabilmente questa società che produce macchine che probabilmente avrà non lo so 300 macchine attive in Arizona Phoenix con ogni probabilità perde un sacco di soldi quindi poi bisognerebbe andare a vedere nel dettaglio ma diciamo oggi il mood del trend è quello lì quindi grande sviluppo per il futuro grande sicuramente questo sarà la mobilità del 2030 del 2040 però diciamo al momento è un qualcosa di non sostenibile diciamo che Google i soldi continua a farli o meglio Alphabet continua a farli col motore di ricerca però sicuramente è un qualcosa di positivo e che tra un po' i nostri figli insomma si chiederanno come mai noi andavamo in giro con le macchine e quando appunto nel futuro sarà probabilmente tutto quanto automatizzato quindi giusto investire in questa direzione ovviamente sono tanti investimenti i ritorni sono incerti e si vedranno più avanti guarda mi fai mi fai sorridere a pensare che magari i nostri figli ci chiederanno perché andavamo in giro con le macchine perché quando ero piccolino mi ricordo che mio nonno mi raccontava che addirittura lui portava i mobili che faceva essendo lui i falegname una volta li ha portati addirittura in Belgio trascinandoli in bicicletta e io effettivamente mi chiedevo nonno ma che cacchio te lo fa fare di andare fino in Belgio e però qui la situazione sarà un po' effettivamente diversa perché probabilmente noi se useremo le macchine che si guidano da sole perché staremo meglio di oggi mio nonno andava in bicicletta perché forse stava un po' peggio però la differenza sostanziale secondo me è che il progresso che abbiamo visto oggi è molto più amplificato cioè nel senso se dagli anni 30 agli anni 50 ci volevano 20 anni per avere determinati sviluppi tecnologici oggi già in 5 anni si possono vedere degli sviluppi infinitamente superiori quindi oggi è come se il mondo avesse una velocità 10 volte superiore cioè tu pensa nel 1900 come vivevano le persone e quanto è cambiata la nostra vita dal 2000 a oggi banalmente oggi tutti quanti abbiamo un navigatore diciamo all'interno del cellulare insomma quindi sicuramente il mondo che conosceremo tra dieci anni sarà molto diverso rispetto a quello che vediamo oggi bene la seconda società che fa parte di Alphabet è davvero molto affascinante si chiama Calico Calico se avrete voglia di andare a vedere il suo sito internet molto semplicemente cioè molto semplicemente attenzione di semplice c'è veramente poco è una società che studia l'invecchiamento e come viene riportato sul suo sito web l'obiettivo di questa società sostanzialmente è fare in modo che l'uomo possa vivere di più e meglio quindi è una società che si mischia tra diciamo nel settore del benessere della lifestyle e della salute passando appunto per le biotecnologie e tutto quello che sono appunto le ricerche scientifiche applicate appunto al benessere una società davvero molto interessante dove sono impiegati alcuni tra i migliori scienziati al mondo quale sia veramente l'obiettivo di questa società io non lo so però evidentemente anche dal punto di vista economico avere delle persone che vivono di più e sostanzialmente arrivano ad un'età avanzata in perfetta efficienza chiaramente è un qualcosa che può migliorare l'economia delle proprie aziende come la vedi tu Enrico questa società pensi che sia un qualcosa che potrà essere poi tradotto quest'idea in soldi oppure magari un un crucio o un giocattolo dei fondatori che vogliono vivere più a lungo per godersi la loro immensa fortuna guarda questo è uno dei settori che io in assoluto amo di più cioè tutto il tema legato all'invecchiamento della popolazione che è una realtà cioè la popolazione sta invecchiando un tempo non si ve a quanto si viveva oggi quindi è uno dei dei settori che mi piace di più quindi assolutamente corretto investire in questa direzione e quindi mi piace molto tieni presente che tutte le aziende farmaceutiche e in generale appunto quelle legate alla salute hanno delle marginalità molto importanti Google è abituata ad avere dei margini significativi sappiamo che il margine operativo di Google è intorno al 50% oppure di più rispetto a quello che è il fatturato ecco le aziende farmaceutiche sono tra le poche aziende che una volta inventata la molecola una volta trovato il farmaco la cura hanno poi delle marginalità molto importanti quindi mi sembra in linea col modello di business anche se molto diverso della diciamo della ricerca online e sicuramente vengono impiegati scienziati ingegneri quindi mi piace tantissimo quindi questa azienda se devo dire magari è meno appariscente rispetto a quella delle auto ma è un settore che a me intriga di più poi abbiamo un'altra società che si chiama Sidewalk Labs ed è una società estremamente interessante a mio avviso perché si occupa di progettare e costruire quelle che oggi come oggi vengono chiamate smart city quindi delle città sostanzialmente dove la vita viene resa più semplice dalla tecnologia ed in particolare la caratteristica saliente di queste città che di fatto poi progetta Google è quella di avere un ecosistema di robot e sensori che collecting sto leggendo dal sito che diciamo collezionano tutta una serie di dati che servirebbero poi appunto a migliorare ulteriormente la vita quindi per esempio se io con la mia bicicletta passo tutti i giorni alla stessa ora dallo stesso punto ecco che magari un sistema di intelligenza artificiale farà in modo di farmi trovare i semafori verdi quando io passo sto chiaramente inventando ed esagerando però questo è l'obiettivo di questa società quindi la progettazione di quelle che vengono chiamate smart city tra l'altro proprio lo scorso ottobre è stata data il via alla costruzione della prima smart city in un'area che da molti anni era in disuso di Toronto in Canada mi viene da pensare e anche in questo caso Enrico vorrei avere il tuo parere che se Google costruisce una città chiaramente farà in modo che poi chi ci vive utilizzerà i suoi servizi e di conseguenza Google sarà ancora più impregnato nella vita delle persone che vivranno in questa città questo non c'è dubbio però l'idea è affascinante nel senso che mi piace allora il problema secondo me in realtà è un altro cioè il fatto che questo sia un bel progetto siamo d'accordo ma il problema è che il rischio vero è che è vero questi ingegneri sono avantissimi e creano delle cose avantissimi ma il problema è che rischiamo di creare una generazione di rimbambiti perché se avremo il telefono che ci dice cosa dobbiamo fare la macchina che si guida da sola e tutto il resto c'è il rischio io tante ti capita mai che tu vai in giro per la strada e vedi la gente col cellulare davanti che neanche guarda dove cammina no ti dico di più Henry a me capita di fare magari dei parcheggi con la vecchia macchina di mia mamma e siccome con la mia macchina oramai sono abituato a avere i sensori del parcheggio con una macchina senza sensori faccio fatica a fare i parcheggi diciamo all'indietro quindi questa cosa qui mi fa molto sorridere perché se pensiamo che molto probabilmente a breve tutti quanti avremo una sorta di assistente robot che abbiamo già nel telefono perché io da quando ho comprato il telefono nuovo l'ultimo modello di iPhone non metto più la sveglia ma chiedo a Siri di mettere la sveglia e faccio tutto senza toccare il telefono quindi sono molto d'accordo con te bisognerà capire se bisognerà diventare bravi a gestire questa tecnologia oppure rimanere indietro a un certo punto ti farà essere un po' più sveglio un po' più reattivo non lo so non lo so cioè guarda io una volta ero in giro con un mio amico e lui mi ha detto dai spegni il navigatore accendi il cervello no perché veramente eravamo diventati e siete tornati a casa perché vi siete persi però cioè capisci che tante volte ci pensi cioè non vai a ricordare più niente tanto lo chiedi al telefonino cioè il vero rischio di questa roba qua che poi però esula dal fatto devo comprarmi o meno le azioni di Google o di Alphabet ma la verità è di creare una generazione di mente catti questo è il problema vero che se sei lì a programmarlo quindi se sei dal lato della barricata è un conto ma se poi sei il fruitore insomma secondo me quindi tutte queste cose devono essere utilizzate con un minimo di buon senso però l'idea della smart city è interessante mi piace e poi dal dalla terra diciamo dove abitiamo passiamo all'aria perché le ultime due società facente parte appunto del panorama Alphabet sono Wing e Loon rispettivamente Wing è una società che si occupa di spedizioni di fatto di consegne più che spedizioni attraverso droni è una società che è già attiva a Canberra in Australia e al momento serve una cosa come 100 abitazioni quindi estremamente limitato questo progetto è un'altra bella azienda che perde i soldi sicuramente sicuramente perde i soldi però diciamo che è molto interessante proprio perché se oggi ci sono tantissimi problemi con i fattorini perché le ore di lavoro sono troppe devono fare troppe consegne anche Amazon ha questo grosso problema appunto di quello che è tutto quello che passa dal momento in cui noi facciamo click su un sito e acquistiamo delle cose fino al momento in cui il pacco con queste cose arrivi a casa beh Alphabet ha una società di droni appunto che si chiama Wing e LUN appunto che citavo prima è una società molto interessante che attraverso sostanzialmente dei palloni sonda che sono una specie di grossa mongolfiera che però evidentemente sta un po' più in alto rispetto a una mongolfiera normale ha l'obiettivo sostanzialmente di portare internet nelle zone più remote del mondo ed in particolare LUN ha un progetto enorme di portare internet in tutta l'Africa quindi è un qualcosa di estremamente interessante che mi fa chiaramente pensare al fatto che se tu porti internet in un luogo dove non c'è poi a queste persone ai cui portato internet potrai far vedere anche la pubblicità e poi lo useranno no beh questo ti dico tra tutte le varie idee è sicuramente la più funzionale c'è google offre servizi che funzionano solo per il tramite di internet se tu oggi puoi offrire i tuoi servizi sparo a caso a 3 miliardi di persone magari domani portando internet in Africa visto che è l'unico posto dove c'è una natalità potrai offrire internet 5 miliardi di persone 6 miliardi di persone quindi assolutamente sanno che se vogliono continuare a sostenere titolo fatturato e ricavi è evidente che devono offrire i servizi a quanta più gente possibile è vero che magari il reddito pro capito è più basso oggi ma tra 20 anni non sappiamo se sarà effettivamente ancora così basso visto che oggi gap è possibile trovare uno stato africano che può crescere del 10 15 20% all'anno è impossibile pensare a una Germania ma anche a una Cina che possa crescere del 20% all'anno quindi è giusto investire in posti dove internet non c'è o comunque sono in via di sviluppo se vogliamo chiamarle così ecco vedendo appunto quelle che sono le principali società del gruppo Alphabet quello che personalmente penso e mi viene da pensare è che non sembra che questa società stia facendo l'errore di sedersi sugli allori sembra che questa società abbia voglia e abbia la visione di continuare ad investire e ampliare quello che è la sua presenza nonostante sia oramai già capillare in tutto il mondo puntando appunto giustamente come hai detto te sulle zone che hanno un tasso di crescita maggiore rispetto ad altre zone del pianeta che data appunto una situazione di benessere chiaramente non sono più così in crescita come magari lo erano un tempo a mio avviso Google alla luce appunto di queste considerazioni che abbiamo fatto nonostante sia un titolo che è salito tantissimo negli ultimi dieci anni rimane ancora un'azienda sulla quale investire per il lungo termine anche perché e su questo Enrico poi ti chiedo una riflessione nel momento in cui dovesse arrivare un competitor magari con una buona idea con una società magari che ha un'idea particolare molto interessante Google è talmente grande che se la può comprare far la sua e sostanzialmente fare in modo che un eventuale sviluppo vada ad accrescere ancora la forza di Google tutte le società che abbiamo citato e poi ti lascio la parola sono società che sono nate da sole non sono state create da Google a parte LUN che è stata creata nel 2011 appunto dal Research Lab di Google ma le altre società sono società che sono state acquisite quindi a prova appunto di quello che ho appena detto Google è così forte che quando vede qualcosa di interessante arriva se la compra e se la mette in pancia cosa ne pensi tu di Alphabet e di conseguenza appunto Google e di queste società investiamo stiamo fermi se è salita troppo allora considerazione allora iniziamo ti do giusto due parole invece sull'azienda quella di distribuzione quella dei diciamo dell'industria della distribuzione anche su quello sono dell'idea che possa essere un'azienda di assoluto livello vi aggiungo una cosa una delle prime acquisizioni che ha fatto Google è stata quella di YouTube di cui non abbiamo parlato e che non c'è all'interno che ad oggi è se non ricordo male il secondo sito più visitato al mondo penso che abbia superato ho visto qualche 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 presentazione qualche tempo fa ha superato anche Facebook quindi e fu acquistata se non ricordo male una decina di anni fa per tipo 4 miliardi e si disse ma questi di Google sono mati hanno comprato YouTube per 4 miliardi provate a rivenderla oggi che cosa vi danno e quindi insomma quindi questa è un'altra roba quindi Google sul discorso di mi acquisto una società se vedo che ha delle potenzialità sicuramente non dorme parlando di dati di bilancio andando a vedere un pochettino quello che fa Google ti posso dire una cosa che è molto interessante Google fa soldi a differenza di tante aziende che sono state quotate recentemente che magari hanno una storia minore e che operano comunque nel tech pensa che il pie medio quindi diciamo il valore diciamo di prezzo utile che viene attribuito alle aziende del settore tech di questo settore è di 42,16 proprio l'industria Google più è basso meglio è Google ce l'ha di 28,17 quindi rispetto al settore diciamo è considerata un'azienda ancora sottovalutata quindi non solo è leader di mercato non solo fa soldi mentre gli altri li perdono ma è anche sottovalutata se comparata con le altre aziende del settore tecnologico quindi secondo me è assolutamente un titolo che ancora oggi ha delle ottime aspettative di crescita se tu mi dici continuerà a salire nel brevissimo termine non lo so perché mi aspetto comunque un piccolo ritracciamento a parte le borse se tu mi dici tra dieci anni Google varrà più di 1300 dollari ad azioni ti dico secondo me è molto più provabile che ne valga almeno 1600 1700 o 2000 bene Enrico grazie mille per aver partecipato a questa puntata molto interessante ci vediamo la settimana prossima sempre con money never sleep il denaro non dorme mai e commenteremo un'altra notizia e ci faremo un'idea evidentemente su un altro business su un altro settore grazie alla prossima grazie